Il grande ruolo del volontariato nelle aree interne, la nuova sfida raccontata da istituzioni ed enti nel terzo settore, Irpinia e Sagno, protagoniste in Campania. Quest'anno ricorrono anche i 40 anni di quel tragico evento che è stato il terremoto dell'Irpinia, che secondo me ha dato vita al volontariato e alla protezione civile italiana. Il terzo settore rappresenta sicuramente l'unico comparto in movimento, in sviluppo in questo momento nella nostra nazione e soprattutto rappresenta sicuramente il settore in cui si può fondare il cambiamento sociale, il benessere delle comunità, il rispetto della stessa Costituzione. Istituzioni e volontariato, un binomio da sempre importante e fondamentale. Penso che sia fondamentale l'apporto dell'associazionismo e del volontariato perché la Costituzione ci dice all'articolo 2 che la personalità umana e la degnità umana si sviluppa anche nelle formazioni sociali e quindi il fondamentale apporto di questi organismi, di questi enti per lo sviluppo, per i giovani, per i disabili, per tutta una serie di soggetti è indispensabile per una migliore gestione. La sensibilità dell'aria interna verso le persone che hanno bisogno è stata sempre più sentita forse è proprio perché nell'indole del sanito, dell'irpino c'è la stessa sensazione di poter dare qualcosa agli altri.